La fortitudo Moncada basket agrigento ha vinto contro Rieti 63 a 60 alla gara di Bella per la promozione. Oltre 2000 tifosi al Palamoncada hanno festeggiato il ritorno dopo due anni di purgatorio in A2. Vediamo. Siamo felicissimi soprattutto. È arrivato anche Andrea Moncada. Perché dopo l'anno scorso abbiamo dimostrato ancora una volta di essere competitivi con un budget nettamente più basso rispetto a quelli delle altre società. Ormai il contesto fortitudo agrigento Palamoncada e Christian Maier ci consente comunque di divertirci. Però adesso abbiamo bisogno comunque del pubblico agrigentino che oggi era qua e ha giudito con noi a vederci felice, a vederci vincere. Più che altro non è a vederci vincere, abbiamo vinto tutti insieme. Secondo me questa vittoria è dovuta al 50% del giocatore e al 50% del pubblico. È stata una delle serate più belle della storia della fortitudo agrigento che si ricorderanno probabilmente per sempre. Papà sarebbe stato orgoglioso di voi. Questo dico a nome di tutta la fortitudo agrigento. Sì, diciamo che gli ultimi giorni con papà abbiamo seguito insieme la trattativa insieme a Christian con Loll Ambrosin. Mio padre è colui che ha dato lo sprint finale per chiudere questa trattativa. Le sue frasi erano quelle, torna a meno a due e basta queste campioni di minuto. Diciamo che rispetto a due anni fa, tre anni fa, quando ci siamo a Torre Troceschi, ho ché tutta la felicità di questo contesto, però ripeto ancora una volta abbiamo bisogno di tutto il contesto agrigentino, delle imprese agrigentine che si avvicinano a questa squadra perché è un giocattolo realmente bello e per renderlo più bello abbiamo bisogno di tutti voi. La dedica più grande è la famiglia Moncata. A mamma. Che è qui. Beh, un applauso. Qual è il futuro della Fortituta Agrigento? Adesso arriva la Serie A. Sì, sicuramente la prossima settimana inizieremo a pensare subito all'iscrizione della 2 e poi vedremo in base al budget e alle aziende che si uniscono a noi che tipologia di squadra fare, però di sicuro garantiremo la Serie A. Una domanda la devo fare, signora Patrizia. vedere i suoi figli trionfare al Palamoncata in una delle serate più belle della storia della Fortituta Agrigento, quanto la rende orgogliosa? Ma sicuramente tantissimo, sono emozionata per la vittoria perché ho visto i ragazzi essere contenti e felici. so che questa vittoria è dedicata sicuramente al papà che ha costruito tutto ciò e che ha reso possibile questo. Io non chiudo con una domanda, chiudo con una risposta dicendo che ringrazio in nome di Agrigento la famiglia Moncata.